salve e benvenuti sul mio canale io sono Mr. Camarium fa caldo lo stavo dicendo salve sono Mr. Camarium fa caldo ancora un attimo 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 attimo un attimo 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 un attimo un attimo un attimo anzi Allora ho finito è rimasto , ok Salve Benvenuti sul mio canale io sono Mr. Camario.